Il cinema e il teatro in Italia sembrano essere un po' in crisi e che i giovani non si vogliono avvicinare a queste arti che comportano comunque molti sacrifici, ci puoi dire qualcosa a riguardo? Ma in crisi, io da quando sono nato sento dire che teatro e cinema sono in crisi, in realtà non ho mai sentito un periodo in cui si diceva a Florido il momento storico, è il problema che insomma è un po' in crisi il mondo dello spettacolo perché credo che i giovani abbiano dei riferimenti piuttosto bassi, vogliamo usare questo termine, perché c'è tanta televisione che impone dei personaggi che non hanno storia alle spalle, non che non siano bravi o che non siano capaci, ma che non hanno storia. Quindi io immagino che i ragazzi che si avvicinano a questo mestiere, come ho fatto io quando ero giovane, io avevo la possibilità di avere dei punti di riferimento molto chiari, specifici, personaggi che avevano una storia eclatante e soprattutto molto visibile. Oggi invece i giovani vanno dietro molto al concetto della fama, al concetto dell'essere molto popolari, ma non sempre questa fama e questa popolarità corrisponde a una persona che ha una storia. Quindi che cosa dire? Il cinema e il teatro sono in crisi perché credo che sia in crisi questo mestiere, il modo in cui si fa, ma come tutte le crisi sicuramente porterà prima o poi qualcosa di molto buono. Allora Ambarca, il tuo stile, cioè fondere la musica napoletana con altri stili, un mix di emozioni, ce ne vuoi parlare un po'? Allora il mio stile è fondere non solo la musica napoletana, ma pure quella del Nord Africa, l'Araba. Allora per me unire tutte le due culture è un arricchimento. Oggi non più viviamo un mondo di solo una razza, allora che benvenga che cominciamo a abituarsi di altre melodie, altre lingue. Ecco, nel mio concerto io sempre metto l'arabo, il francese e il napoletano. Poi uno dice perché il napoletano? Primo perché vivo da anni a Napoli, la seconda cosa è che il brano i napoletani, grazie ecco al brano i napoletani che hanno fatto conoscere l'Italia per il mondo. Allora un arricchimento veramente per me è un tesoro, ecco, un grande tesoro.